buongiorno keyforge player mamma mia inizia il periodo d'oro perché manca poco più di un mese pochissimo perché tra l'altro proprio stamattina io mi lamentavo del fatto che si sanno meno della metà delle carte in realtà ci sono tante carte nuove visto che ci sono due casate nuove in arrivo e mi lamentavo del fatto che se ne sanno meno della metà c'è un foglio reddit che tiene praticamente tutta la lista delle carte nuove ma penso che supereremo poco più della metà robe così il fatto è che tempo un'ora neanche sono uscite questi spoiler da questo certo cover slide che è un redditors non so chi sia che praticamente ha avuto un box premium con due mazzi insieme in anteprima e li ha sbustati e le ha condivisi per tutta la community e quindi niente siamo di fronte ai primi unboxing in arrivo a distanza di un mese tenete in considerazione che già intorno al 10 novembre ci sono i primi seal ed con queste espansioni in italia quindi manca veramente pochissimo e penso che da questo mese questi giorni in su potremmo soltanto vedere gente che posta mazzi che non si sa come gli arrivano prima onestamente spero di essere onorato come successo per age of ascension che mi mandino qualcosa in anteprima per poterlo mostrare a tutti voi e farci sopra qualche commento ma al momento guardiamo nelle tasche degli altri vediamo cosa sbustano qua abbiamo la prima composizione dei sauri che la mia casata preferita solo per per come è pensata mi dà un senso di patriotismo romano anche se non sono romano però l'antica roma è qualcosa che mi ha sempre affascinato roma grecia quello che è e niente qua ci sono tutte carte che già conosciamo tributo carta che a me piace tantissimo anche se non ci sono i raptor che vorrei vedere con questo tributo c'è il gargantodonte o come lo tradurranno non lo so che l'anti steel fatto per eccellenza l'accent power forse nuova vabbè nulla nulla di speciale però fantastica per quanto riguarda i sauri e determinati sauri quindi qua ad esempio vediamo già diverse sinergie con questa carta l'altra la meteora la conoscevamo già l'altra carta nuova è questo primus che è rara ecco perché non si sapeva scusate non si vede benissimo la qualità della foto è quella che è ogni creatura amica ottiene più due forza per ogni per ogni ambra sul primus unguis ok e rip puoi esaltarlo anche qua ditemi le sinergie che ci puoi fare sopra con questa carta qua bella 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 cioè tributo l'ho detto la prima volta che l'ho vista questa carta qua sarà una carta chiave per attivare qualsiasi sinergia dei sauri e vabbè vabbè si commenta da sola secondo me poi andiamo in ombre cosa molto interessante ombre che io non ho ancora guardato bene tutti gli spoiler però penso che si sappiano già la maggior parte di queste carte tra l'altro si riconferma il fatto che ci saranno carte di cota presenti sia in age of ascension sia in questa espansione come umbra ad esempio quindi abbiamo un break a reel elusione 1 dai ai vicini azione ruba 1 mi piace sicuramente non è una carta problematica da contestare però visto il potere dell'effetto ci sta mi piace poi c'è lock anche questa si era già vista mi piace classica rimozione artefatto molto efficace sto giro distruggione artefatto cos'è di fare è bella è bella in determinati match up è una carta veramente estremamente forte questa qua l'huggermagger hanno già visto vinda che tra l'altro adesso si sa ho visto su facebook ma forse nella prossima decklist si sa chi è sua sorella io pensavo fosse la penny in realtà è un altro pestering blow anche questo l'avevamo già visto infliggi un danno e fai arrabbiare quella creatura ronny torna questa è una buona notizia per ombre ronny bellissima carta trust no one ruba 1 se non ci sono creature amiche in gioco invece ruba 1 per ogni casata rappresentata tra le creature nemiche con un massimo di 3 forte forte questo è un po il nuovo trucco della civetta oserei di tra l'altro non so se avete visto il primo su unguis mi sa di no perché purtroppo sto sto sito fa schifo da mettere su obs poi giustamente ho messo la webcam gigantesca quindi molte carte verranno coperte però cerco di mostrarvele tutte ovviamente mi basta scorrere una barra bellissimo poi abbiamo il subtle chain che a me piace a me piace una culei mentali molto culei mentali per ombre penso che non penso che faccia veramente veramente male certo si si dà al caso un po' che il fattore fortuna influisce molto su questo però sapete benissimo che in caso di ve la leggo scusate il tuo avversario scarta una carta casuale dalla sua mano sapete benissimo che in caso di vincoli o in caso di carte combo estremamente forti queste sinergie fanno veramente veramente male poi torna la ricettatrice carta che secondo me è molto sottovalutata a me piace poi in questo deck tra l'altro che ci sono i sauri può dire il suo può dire il suo una carta del genere poi abbiamo il star alliance il clock in dago al già vista al first o si fa il friend che questa mi pare già vista tre per tra l'altro poi abbiamo anche questo già visto tra l'altro questa carta qua ha una razza nuova un tratto nuovo che chissà se vedremo in una futura casata o meno abbiamo un medico va bene il red alert anche questo avevano già visto non mi fa impazzire lo sai officer queen can forse si era già visto non me lo ricordo dopo che scusate non si legge bene o che leggo leggo di qua dopo che un giocatore sceglie una casata attiva che che non coincide con le carte in gioco ruba uno quando no dopo che un giocatore sceglie una casata attiva che non coincide con le carte in gioco ruba uno oh mio dio beh rubare è sempre forte è un effetto particolare questo qua bello nuovo innovativo è fastidioso fastidiosissimo contro i mazzi controllo contro mazzi che ne so dis che puliscono tutto e basta questa questa carta qua è veramente fastidiosa perché non è il giocatore attivo che ruba uno sei tu proprietario di questa carta quindi indipendentemente se lo chiama l'avversario se lo chiami tu mamma mia questa carta qua è fortissima ma questa qua l'ho già vista su facebook ragazzi questa qua anche questa sbroccatissima rivela la carta in cima al tuo mazzo se quella carta non è della star alliances la tua casata attiva diventa di quella casata fino alla fine del turno no scusate altrimenti fini concludi il turno non lo so cioè sbroccatissimo sto qua è sbroccatissimo sto artefatto capite bene che tu magari star alliance che giochi alliance continui a prendere values dall'alliance che hai nel board e usi questo artefatto il turno dopo molto probabilmente quando utilizzerai questo artefatto è improbabile che tu veda star alliance se l'hai già giocato ovviamente questo questo artefatto qua va a tentativi e più lo apparecchi in irli più prende value più è forte bellissimo bellissimo purtroppo io credo che star alliances stanno uscendo delle carte veramente troppo forti poi anche come sono pensati con l'effetto play effetto fight effetto rip sono troppo versatili troppo rapidi e cioè a differenza magari dei dei sauri che hai bisogno di tempo di carte chiave per attivare sinergie effetti cioè questi qua fanno tutto loro punto e ho veramente paura che star alliances non mi piace come design come lore mi sembra un po buttato lì preferivo marte onestamente però ho paura veramente che diventeranno una una casata da top tier poi vabbè certo è un gioco di mazzi unici con combinazioni uniche si discorsi vanno presi con le pinze però appena usciranno tutte le carte farò il classico confronto tra espansioni e vediamo un attimo questa casata come come è statisticamente poi we can all win possiamo vincere tutti possiamo tutti vincere probabilmente una citazione di qualcosa in questo momento non la so cogliere 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 probabilmente josh a stranger sarà far saprà fare di meglio le chiavi costano meno due fino alla fine del tuo prossimo turno imbarazzante imbarazzante tra l'altro da pure un'ambra io 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 non non so tra l'altro è una rara non si vede bene sì probabilmente sì è imbarazzante anche questa è una carta imbarazzante veramente sta star alliance non lo so è troppo forte troppo troppo forte poi abbiamo di nuovo i sauri questo qua è il secondo deck abbiamo lo scudo l'imperium la falange il questore che già avevamo visto questa qua è nuova retor gallim di fatti mi sembra no è comune è comune ma mi sembra che sia nuova gioco la chiave dell'avversario costa più tre raccolto esalti il retore e le chiavi dell'avversario costano più tre porca puttana allora a me piace per il semplice fatto che ecco questa è tipo una carta che assomiglia molto alla star alliance perché ha un effetto gioco ha un effetto raccolto quindi il suo lo fa più o meno sempre tra l'altro c'ha la sinergia con esaltare che è prevalentemente dei sauri e mi piace mi piace tanto 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 però c'è da dire che il raccolto è un peccato che gli hanno dato l'esalto perché è una creatura penso che sia una delle creature più deboli insieme a questo questore però almeno quest'ora è illusione una delle creature più deboli a livello di board di questa casata tra l'altro vediamo di nuovo il triceratopo gigantesco vediamo la classica meteora che non mi fa impazzire però in determinati match up è una carta veramente veramente forte sexemper tirannosaurus penso sia nuova muovi ogni ambra dalla tua creatura più forte alla tua pool e distruggi quella creatura allora con questo mazzo probabilmente non sinergizza troppo bene ma capite bene che una carta del genere con che ne so il gargantosauro il tributo e queste cose qua fortissima prende una value imbarazzante una carta del genere bella 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 è rara non comune non comune ottimo ottimo poi abbiamo il senatore bracchius puoi spendere l'ambra dalle tue creature sulle tue creature amiche come se fosse nella tua pool eh vabbè fight rip raccolto ma tra l'altro non c'era eh mamma mia fortissimo fortissimo c'era già una creatura che diceva che aveva un effetto del genere non mi ricordo come si chiama eh che diceva però che solo le ambre sopra di lui questo qua puoi spendere l'ambra sulle tue creature amiche come se fosse nella tua pool imbarazzante imbarazzante anche questo qua imbarazzante vi dirò questa deck composition non mi fa impazzire eh principalmente per questo doppio imperium che vabbè è comunque ambra tra l'altro guardate le ambre stampate 1,2,3,4,5,6 ogni carta più o meno ha un'ambra stampata di azione o miglioria vabbè fortissimo fortissimo ed è raro lui è raro eh giustificato giustificato molto forte molto molto forte penso sia una delle mie carte preferite adesso di dei sauri prima lo era la carta quella comune che ci spendi sopra le ambre solo sopra di lui però questo qua c'ha l'effetto di massa fortissimo fortissimo carta chiave questo qua mamma mia quanto busta sauri se c'hai un mazzo con questo perché poi è un effetto passivo cioè tu lo metti giù anche in un secondo momento e l'effetto si attua bellissimo bellissimo oh mio dio di nuovo ombre ok come già sapevo ecco la sorellastra raccolto infligge un danno a una creatura se quella creatura viene distrutta l'avversario scarta una carta a caso dalla mano va bene va bene preferisco rubare però in determinati matchup anche questo è un effetto che fa molto male è un effetto che fa veramente veramente tanto tanto male poi abbiamo di nuovo il breaker heal di nuovo lock il laggermanger ronny trust no one stesse carte di prima più o meno poi anche questa no safety numbers ok nuova infliggi tre danni a ogni creatura che appartiene a una casa che ha tre o più creature in gioco ok ok bella e ambra può essere una buona rimozione sicuramente tre danni diciamo di massa in realtà secondo me è un po' difficilina da attuare però in determinati matchup contro determinate casate tipo ombre che hanno poca forza e magari un ombre con tante creature problematiche può veramente veramente far tantissimo male poi le altre le conosciamo tutti l'ideway non mi fa impazzire poi andiamo di nuovo alla star alliance tra l'altro la garcia è una delle mie preferite plasma nazzle miglioria questa creatura ottiene pre combattimento infliggi due danni alla creatura no infliggi due danni alla creatura attaccata con due di propagazione forte 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 non ce n'è molto molto forte anche questo perché sono due danni in più tra l'altro diretti quindi vanno attraverso l'illusione vabbè tutte cose che si sanno già poi vabbè la spears ci sapeva al forcefield si sa al taber questo è nuovo combattimento rip puoi giocare puoi giocare o usare una carta non star alliances in questo turno cioè ditemi se una carta del genere non vi ricorda a marte della prima espansione nulla da dire dai non vado avanti stealth mod il tuo avversario non può giocare carte azione nel prossimo turno vabbè potrebbero avere un po' più di fantasia perché questa qua è una tempesta di disturbi in un'altra casata molto forte molto molto forte garcia già la conosciamo è parecchio tra l'altro stealth mod non so se si vede molto garcia è una delle mie preferite sai officer già si sapeva anche questo anche questo clock in mode pure e l'arm master e niente questi sono gli spoiler di oggi mamma mia non vedo l'ora non vedo l'ora salutoni